Amici di Otto Channel, buonasera dal Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Tra pochi istanti avrà inizio la seconda amichevole in due giorni per il Benevento Calcio che ieri è stato impegnato contro il Campobasso al Nuovo Romagnoli in una amichevole vinta 1-0 grazie al gol di Cruciani. E stasera, proprio a Cava dei Tirreni, è ospitato dalla cavese di mister Emilio Longo che sta per battere il calcio d'inizio in una serata considerata di gala proprio per la cavese che esordisce davanti ai propri tifosi in questo test sicuramente probante contro il Benevento. Andiamo a dare lettura delle formazioni, intanto il match è iniziato. La cavese schiera Conti, Cicerelli, Gazzaneo, Dideo, Sicignano, Esposito, Tedesco, Ausiello, Del Sorbo, De Rosa e Dancora. Il Benevento invece parte con Piscitelli, Melara, Porcaro, Mattera, Padella, Del Pinto, Campagnacci, De Falco, Marotta, Mazzeo e Mazzarani. In panchina Longo ha a disposizione Cirillo, Trezza, Aliperta, Bongermino, Varriale, Petti, Danna e Danna mentre il Benevento ha Calvaruso, Som, Ciciretti, Agei, Joff, Cruciani e Bonifazi. Benevento che è impegnato in questo momento in una rimessa laterale, il pallone viene giocato da Padella. A meno di sorprese adesso avremo anche la conferma col passare dei minuti, la squadra di Auteri, che però non è in panchina a causa della squalifica, proprio come contro il Campobasso. Si dovrebbe schierare con il 3-4-3. Insomma, Rotta prova la sponda con Mazzeo. Accampagnacci subito sulla sinistra, è velocissimo, uno contro uno con il numero due della Cavese. Cicirelli è rimessa laterale per i giallorossi. Sembra essersi fermata la pioggia che stava cadendo copiosa sul terreno del Simonetta Lamberti. Almeno fino a pochi istanti fa era così, fino a poco prima del fischio d'inizio. La sorpresa, la novità di giornata è sicuramente l'impiego di De Falco a centrocampo. In coppia con Del Pinto, dopo le voci di una possibile rottura con la società giallorossa del centrocampista Ex Bari. Diciamo che scaramucce rientrate, per così dire. De Falco è a tutti gli effetti arruolato da Auteri, che lo sta provando proprio in coppia con Del Pinto. Ieri l'allenatore giallorosso ha dato spazio per quasi tutti i 90 minuti contro il Campobasso allo stesso 11. Salvo cambiare proprio negli ultimi quattro minuti un effettivo inserendo Omar Joff, che oggi è in panchina. Sì, comunque 3-4-3 per il Benevento con Porcaro al centro dei tre difensori. Poi affiancato sul centro-sinistra da Mattera e sul centro-destra da Padella. A centrocampo a destra Melara, poi Del Pinto e De Falco sono i centrali. A sinistra Mazzarani e il tridente offensivo composto da Mazzeo sul centro-destra, Marotta al centro e Campagnacci sul centro-sinistra. Anche se in questo momento, a dire il vero, è proprio Campagnacci impiegato da prima punta. Quindi, come al solito, grande movimento e grande confusione organizzata all'interno del reparto offensivo giallorosso. Con scambi nello stretto, ripetuti e scambi di posizione anche. Adesso è la Cavesi a prendere iniziativa. Con il numero 10, De Rosa, però fermato bene dalla difesa giallorossa. Adesso Mazzeo prova subito a lanciare Marotta, che ruba il tempo ai difensori. Marotta salta anche il portiere, crossa al centro. Anzi, una sorta di tiro smorzato, però in scivolata. La palla si perde sul fondo. E tocca addirittura la parte alta della rete. Comunque, bello spunto di Marotta, che ha rubato il tempo a uno dei due difensori centrali della Cavesi. Dovrebbe essere proprio Sicignano, il calciatore che si era fatto sfuggire Marotta. Adesso corre il Benevento in possesso palla. Con De Falco, scambio con Mazzeo. Poi, proprio Marotta per Campagnacci, un rimpallo lo sfavorisce. La palla che termina sul fondo, dopo aver toccato proprio lo stinco di Campagnacci, anche diversi tifosi nella curva sud della Cavesi stanno inneggiando alla squadra metelliana, che punta a vincere il campionato di Serie D. Quindi due test probanti per il Benevento, proprio perché ha affrontato due squadre, o meglio, ieri ha affrontato e in questo momento sta affrontando la Cavesi. Due squadre comunque che puntano a vincere il rispettivo girone di Serie D, in attesa che vengano composti proprio i raggruppamenti del campionato dilettantistico. Ora c'è ancora uno scatto in profondità del numero 10 De Rosa, accolto però in offside dal secondo assistente Manco Di Caserta, che ha alzato la bandierina prontamente. In effetti anche dalla nostra postazione la posizione sembrava irregolare del numero 10 Metelliano. Adesso Marotta protegge palla e la scarica a De Falco. A destra per Melara. Ancora Marotta ad esterno. Si liberano di Dideo nello stretto i due giocatori giallorossi, poi accompagnati anche dal supporto di Mazzeo che subisce fallo. Proprio Guido Dideo viene ridarguito dall'arbitro, che è Bartolomeo Esposito di Caserta, che è somma di Castellammare, coadiuvato appunto da Bartolomeo Esposito di Caserta e da Antonio Manco, sempre della sezione di Caserta, che abbiamo citato poc'anzi per il fuorigioco segnalato a De Rosa. Sul pallone da posizione invitante, siamo intorno ai 25 metri dalla porta difesa da Conti, che è uno dei 3,96 in campo per la Cavese, un altro 95 da Ancora, centrocampista nella mediana a tre di Longo. sul pallone Mazzeo va con il sinistro, Mazzeo è la parata, in tuffo, in corner di Emanuele Conti appunto, primo corner della partita per il Benevento, quando siamo al settimo minuto. se ne incaricherà Alessio Campagnacci, con il destro, traiettoria ad uscire, palla che viene colpita di testa da Porcaro, che ha provato l'iniziativa, di grande personalità, palla che termina sul fondo, senza regare alcun danno al portiere della Cavese, d'altra parte le insidie con i difensori centrali su calcio d'angolo non sono una novità per il Benevento di Auteri, l'ho visto anche nelle uscite precedenti che Luceoni e soprattutto Mucciante sono andati più volte vicini alla conclusione a rete, derivante da calcio piazzato, ora Piscitelli è in difficoltà sul pressing degli attaccanti Cavesi, la palla che termina in fallo laterale, per non rischiare il portiere Lombardo, ha preferito allontanare la sfera, ancora il solito De Rosa su, contrastato da Melara, Melara è su di lui, commette fallo, intervento sanzionato, dall'arbitro Somma, ci sarà una punizione da posizione sicuramente invitante per la Cavese, versante sinistro, offensivo, c'è già grande caos in area giallorossa, stabilite le marcature, il destro proprio di De Rosa però termina sul fondo, a metà tra un tentativo di battuta a rete ed un cross, Piscitelli preferisce non calciare probabilmente e lascia proprio l'incombenza a Mattera, che con il destro provvede al rinvio lungo, Marotta anticipato, un fallo laterale, dal numero due era stato Cicerelli, ad allontanare la sfera, adesso c'è un contrasto tra il numero sette tedesco e il numero sette giallorosso Campagnacci, tutto però rientra con un calcio di punizione fischiato al Benevento e l'azione riparte dalle retrovie, Padella, ricevuto palla, adesso prova il rilancio, palla che non esce in fallo laterale, non viene segnalata, uscita del pallone, al di là della linea laterale, quindi tutto regolare, tutto ancora in gioco, Melara viene chiuso, in un primo momento la rimessa sembrava dover essere giallorossa, invece viene accordata alla Cavese, viene prontamente battuto dal numero tre Gazzaneo, ancora un fallo subito dai padroni di casa, Di Deo sul punto di battuta, Di Deo che ha militato nel Benevento, lo ricordiamo è uno degli ex di giornata, ha militato nel Benevento stagione 2013-2014, nell'anno della semifinale persa contro il Lecce, Padella esce, palla al piede dalla difesa, poi però si allunga troppo il pallone, Di Deo era riuscito ad intercettare la sfera, ma poi è stato troppo frettoloso nel provare a servire un compagno di squadra, probabilmente De Rosa, che non poteva proprio pervenire sulla sfera, Porcaro, rilancio lungo dove però non c'è nessuno, fa buona guardia, numero sei esposito, che alleggerisce in direzione del portiere, e poi a sua volta, una ripartenza scandita da Siciniano, il fallo qui è subito proprio da Siciniano, e la Cavise può ripartire dunque, la via sulla fascia Cicerelli, si allunga troppo il pallone, rimessa laterale per il Benevento, quando siamo all'undicesimo minuto di gioco, sale l'incitamento dei tifosi della Cavese, ricordiamo che la partita non è stata resa accessibile ai tifosi del Benevento, per ragioni di ordine pubblico, la rivalità storica tra i due club, tra le due tifoserie, non ha consentito uno svolgimento regolare, almeno per quanto riguarda la presenza di pubblico di questo match, si tratta pur sempre di un amichevole, ma in questi casi si è preferito non rischiare, il gioco è ripartito, De Falco scandisce i ritmi della manovra, serve sulla destra Melara, Mazzeo perde palla, se l'allunga oltre alla linea laterale, può ripartire dunque la Cavese con Gazzano e adesso Dideo, numero di Dideo a centrocampo, strappa gli applausi dei tifosi metelliani, De Falco, fase confusa in questo caso della partita, ma la Cavese annusa una ripartenza e la accenna con il numero 7 tedesco, va via due giocatori tedesco, poi prova la conclusione, a giro il sinistro di Tedesco, primo acuto della partita, c'è stata anche una deviazione, una bella iniziativa personale di Tedesco che dalla destra si è accentrato, ha calciato di sinistro, conclusione a girare, e palla in calcio d'angolo, il primo per la Cavese, va a batterlo De Rosa, cross al centro, Fiscitelli con i pugni, non si fida, terreno e pallone viscidi, quindi il portiere ha preferito non rischiare la presa, ancora però Cavese che accena un'iniziativa, pallone rimesso in mezzo, c'è fuori gioco del numero 7, tedesco sempre, colto in offside, proteste dei giocatori di casa, la difesa del Benevento però si era mossa bene, alzando la linea con i tempi giusti, Mattera per Porcaro, passaggio corto per Padella, che vede Del Pinto, De Falco scambia con lui, poi ancora serie di scambi ripetuti, Campagnacci chiama il passaggio a Mattera, lo riceve in questo momento, l'iniziativa però non viene premiata, sulla sinistra, quella di Mazzarani, si era proposto in gran velocità, insomma si inizia a vedere qualche scambio in velocità, cose che nelle due settimane precedenti non si poteva proprio pretendere da questo Benevento, sia contro il Fiumicino che contro il Tuttocuo, gambe abbastanza pesanti, mentre in queste ultime due uscite è stato diverso, attenzione adesso Campagnacci va via a due avversari, poi viene fermato all'ultimo secondo, forse poteva concludere prima Campagnacci in questo caso si è lasciato invogliare da un ulteriore dribbling adesso Mazzeo scambio dello stretto con De Falco pennellata proprio per Campagnacci lo stop non è preciso scivola via il pallone che però torna dalle parti di Del Pinto scambio con Mazzarani adesso con De Falco tunnel di De Falco che serve Del Pinto con grande eleganza poi Mazzarani non la perde il Benevento scambia nello stretto e anche abbastanza velocemente Marotta prova a frapporsi tra il pallone ed il numero 6 Esposito la palla che termina però fuori per una rimessa in fase difensiva della Cavese Benevento proverà a pressare in questa circostanza Lideo riceve palla la dà Cicirelli pallone troppo lungo per tutti ed eccessivamente fuori misura in realtà perché termina al di là della linea De Falco controlla poi Matera colpo di testa di Mazzeo a cercare Marotta era partito un po' in ritardo Marotta poi in difficoltà proprio Esposito ha preferito dare la palla all'indietro al portiere della Cavese Conti rilancio lungo di Conti a cercare le punte del Sorbo non riesce a raggiungere la sfera quindi Padella ancora una volta si allunga la palla viene fermato con un intervento irregolare ci sono le proteste ancora una volta all'indirizzo di Michele Somma di Castellammare De Falco batte veloce trova subito Melara passaggio corto per Mazzeo ancora un scambio con Marotta si cercano i due elegantemente Marotta per Mazzeo adesso Mazzarani sulla sinistra pallone a metà strada tra Mazzeo e Campagnacci e quindi la Cavese può ripartire ora è De Falco a rischiare di lanciare il contropiede della squadra di casa ma c'è un fallo ravvisato proprio da Somma all'altezza del centrocampo quindi un'occasione per ripartire da calcio da fermo per la Cavese Lideo lascia al compagno di squadra Siciniano l'incombenza poi il Benevento ritorna in possesso della sfera De Falco per Del Pinto Mazzeo vede Melara lo serve però in maniera imprecisa palla che viene riconquistata dal numero 5 Siciniano poi Gazzaneo e Cicirelli dall'altro lato la Cavese muove bene palla la fa girare e dai là questa ripartenza il pallone in prima battuta indirizzato a De Rosa però viene intercettato dalla difesa del Benevento un tentativo stroncato sul nascere e qui c'è un errore di Mattera che dà l'opportunità di nuovo alla Cavese di provare a cercare a trovare sbocchi nella retroguardia giallorossa ma fa tutto troppo in fretta tedesco e il pallone si perde sul fondo Piscitelli ha già battuto la rimessa dal fondo ma non non tentativo che si deve ripetere stavamo giusto notando che Piscitelli sta evitando di calciare lasciando spesso l'opportunità del rinvio ai difensori ora era stato Porcaro a battere corto prima Mattera una cosa abbastanza strana visto che il portiere lo scorso anno non si è mai servito di di questa di questa opportunità intanto seguiamo l'azione Gazzaneo punta Melara cross al centro libera Porcaro di testa poi Di Deo è un buon tiratore lo conosciamo e di qua c'è un fuorigioco di rientro fischiato al numero 7 della cavese tedesco che secondo l'assistente di Somma era rientrato in ritardo da una posizione di offside inutile ribadire le proteste l'avrete sentite con le vostre orecchie del pubblico presente al Simonetta Lamberti effettivamente era una segnalazione difficile quella di del secondo assistente posizionato sotto i distinti Mattera per Porcaro pallone gira alla volta di Padella lancio lungo di Padella Mazzeo era andato a memoria verso Del Pinto non lo ha trovato adesso Padella di Porcaro di forza ruba palla e anticipa il numero 9 del Sorbo ex Savoia Campagnacci adesso non trova invece Melara e Marotta che viene anticipato pallone dalle parti di Conti rilancio lungo verso Tedesco ceno di intesa tra i due ma il pallone non è preciso e si perde ancora una volta la rimessa laterale poche occasioni da gol alcune occasioni potenziali l'unica però da segnalare davvero è quella di Tedesco che si è persa dopo una deviazione sul fondo lammendo il palo alla destra di Piscitelli poi qualche spunto di Marotta e Campagnacci ma ritmi abbastanza bassi in questa amichevole qui alla Simonetta Lamberti Campagnacci Marotta il suo Mazzeo nello stretto per Marotta ottimo numero di Marotta attenzione perché si era liberato con un sombrero di Esposito dopodiché non era riuscito a trovare i tempi e lo spazio giusto per la conclusione e la Cavese ne approfitta e riparte di Deo grande velo del numero undici d'Ancora che aveva liberato del Sorbo un'altra segnalazione abbastanza dubbia dell'assistente manco ancora proteste dei giocatori della Cavese del Sorbo non placa il suo protestare la decisione è stata presa e l'azione è proseguita il Benevento ha effettuato un lancio lungo e ha sbagliato a peccato di precisione e la Cavese adesso è di nuovo in possesso di palla De Rosa approfitta di uno svarione di Melara cross al centro la deviazione sotto misura di Mattera poi Piscitelli esce la deviazione poteva ingannarlo perché Mattera sforbiciata è riuscito ad alleggerire questo cross di De Rosa che sembrava molto insidioso la Cavese comunque ci sta provando sicuramente un po' in più spinta dall'entusiasmo del pubblico di casa De Falco per Del Pinto centrocampo molto tecnico questa sera per il Benevento piatto destro a cercare Campagnacci c'erano sia Campagnacci che Mazzarani pronti a darsi una staffetta attenzione c'è un'altra iniziativa della Cavese intanto però spenta sul nascere da quel lato c'erano Mazzarani e Campagnacci pronti a darsi il cambio in una sorta di staffetta sulla corsia sinistra per poi conquistare presumibilmente il fondo il passaggio però di Del Pinto non era stato preciso così come non è stato preciso questo suggerimento all'indirizzo di Marotta la Cavese può ripartire con Cicerelli con una rimessa laterale tanto alle spalle della Curva Sud fuochi d'artificio un elemento di contorno in questa serata sicuramente fresca al Simonetta Lamberti Rideo riceve palla e poi scambia con Siciniano Matera Del Pinto intervento in scivolata di De Falco viene sanzionato dall'arbitro era intervenuto su d'ancora De Falco troppo duramente secondo Somma adesso De Rosa cambia tutto all'indirizzo di Tedesco è bravo Mazzarani però ad inserirsi nella traiettoria a far ripartire il Benevento contro piede lanciato da Marotta va a Marotta si allunga troppo il pallone e viene fermato in rimessa laterale dal numero 2 Cicerelli adesso Campagnacci passaggio di piatto destro verso Melara intercettato da De Rosa deve ripartire da dietro il Benevento palla in possesso di Padella De Falco Padella all'indietro verso Piscitelli passaggio corto per Padella molto rischioso perché Del Sorbo stava per inserirsi nella trama di gioco del Benevento ancora Padella per Del Pinto scambio tra i due ripetuto cerchio di centrocampo del Pinto per Campagnacci che scende a prendere palla e a dare una mano ai centrocampisti adesso ancora Campagnacci nello stretto prova di vincolarsi viene fermato dal solito intervento di Siciniano bravi ripiegamento i difensori della Cavesi fino a questo momento considerando che gli attaccanti del Benevento si stanno muovendo tantissimo lì davanti provando spesso soluzioni nello stretto adesso Mazzarani all'indietro verso De Valco ora Del Pinto per Melara conquista il fondo Melara crossa al centro impreciso ma arriva Mazzarani dall'altro lato sulla sinistra può rimetterla in mezzo stavolta sembra buona il colpo di testa di Esposito però libera l'area e mette la pala in calcio d'angolo andrà Campagnacci alla battuta Campagnacci solita traiettoria ad uscire crossa al centro si inserisce Porcaro e c'è il gol il gol di Porcaro ed è una bella gioia per il giovane difensore centrale del Benevento prima rete per lui con la maglia giallorossa ci aveva provato nei minuti iniziali adesso invece ha trovato la porta a grande stacco di testa di Porcaro esultanza molto più che legittima festeggiato da tutta la squadra Porcaro è uno stacco di testa che avremo modo di riapprezzare e che rende felici tutti soprattutto chi ha curato il settore giovanile in questi anni perché un gol di un giovane canterano fa sempre piacere soprattutto quando è inserito così bene nei meccanismi di squadra perché bisogna dirlo in questi 27 minuti di gioco perché il gol di Porcaro è arrivato al 27esimo in questi 27 minuti di gioco non ha per niente sfigurato all'interno di un meccanismo di squadra che sembra essere man mano sempre più collaudato quello del Benevento di Auteri cross quindi di Campagnacci per la testa di Porcaro e palla nel sacco 1-0 per il Benevento cambia il risultato quindi al Simonetta Lamberti 27esimo del primo tempo gol di Porcaro adesso il Benevento deve liberarsi da questo pressing da questa pressione della Cavese esercitata sia dal numero 11 d'Ancora che dal numero 3 Gazzaneo adesso c'è una rimessa laterale in posizione difensiva sull'auto destro si risolve tutto con una punizione fischiata tra i danni di Mazzeo e con fallo proprio del numero 11 d'Ancora Padella batte corto per Del Pinto Padella ancora lui per De Falco l'apertura è sbagliata quindi favorisce l'inserimento di Tedesco si libera di Del Pinto poi De Falco rimiere su di lui ruba palla e va via servendo Campagnacci sull'hot Mancino chiamano il fuorigioco i difensori della Cavese non arriva però la segnalazione quindi Mazzeo cross al centro Marotta fa di tutto per arrivare sulla sfera non ci riesce ci arriva Melara che poi prova il servizio proprio per Marotta non si trovano i due Marotta sta dicendo sta dicendo qualcosa a Melara poi il cambio di ceni d'intesa tra i due stiamo vedendo giocate molto veloci del Benevento rispetto alle uscite precedenti stavamo dicendo proprio tra gli attaccanti ma anche nel supporto dei due esterni in questo caso sono Melara a destra e Mazzarani a sinistra Del Pinto la gioca corta per Campagnacci Del Pinto con il sinistro verso De Falco poi Mazzarani Mazzeo scambia con Campagnacci un intervento duro di Dideo punito con la punizione Mazzeo chiede quasi il giallo a Somma ma trattandosi di un incontro amichevole i cartellini sono nel taschino e ci si pensa più di due volte prima di estrarli come giusto che sia si cerca di privilegiare lo spettacolo le squadre cercano la condizione migliore il caso soprattutto del Benevento che dopo un gran lavoro di carico nelle settimane sia di ritiro che a Paduli che hanno preceduto e poi succeduto la Team Cup l'eliminazione di Team Cup con il tutto cuoio ha caricato oltremodo le gambe ha messo benzina in vista del campionato che partirà il 6 settembre così come quello di Serie D in cui sarà impegnata la Cavese siamo oltre il centro campo zona offensiva per il Benevento palla gestita da De Falco Marotta prova a liberarsi per il tiro prova poi il destro tentativo troppo centrale e preda di Emanuele Conti pallone lungo sfizzata di testa di Tedesco trova però Porcaro si destreggia bene poi serve proprio De Falco messo giù non c'è fallo secondo Somma sicuramente dubbio questa mancata segnalazione dell'arbitro di Castellammare ma siamo già dall'altro lato e Gazzanio ha scambiato con De Rosa a sua volta verso Esposito tentativo del numero 8 Ausiello non trova però fortuna il Benevento adesso può ripartire dall'altro lato Mazzarani va come un treno deve vedersela però con un difensore che è il numero 6 Esposito lo ferma in rimessa laterale Mazzarani sarà lui a battere la rimessa con le mani corta verso Campagnacci poi ancora Mazzarani scivolata fallo laterale di Cicirelli tentativo ancora una volta quindi fermato intervallato dall'azione difensiva della Cavese quando siamo all'interno del trentatresimo minuto 1 a 0 ricordiamo rete di Porcaro a sbloccare la partita colpo di testa su cross su corner di Campagnacci battuto dalla destra adesso Padella ha remesso il pallone in gioco proprio all'indirizzo di Porcaro De Falco verso Del Pinto ancora De Falco cerca e trova Campagnacci pallone gestito da De Falco si fa vedere Mazzeo Campagnacci viene fermato però spalle alla porta e il Benevento riesce a cavarsela mettendo in fallo laterale un pallone che stava per essere gestito da Ausiello la rimessa adesso all'indirizzo di Dideo all'indietro verso Siciniano ancora Dideo Dueetta con i difensori di Deo non ci sono sbocchi per la Cavese il Benevento è ben messo in campo sia tatticamente anche in questo primo tempo abbiamo visto anche a livello di condizione perché è una condizione che è sicuramente in crescita rispetto a qualche giorno fa Porcaro verso Mattera poi De Falco la palla arriva dai pressi di Marotta che viene fermato dai difensori ora Dideo a cercare il numero 8 Ausiello questo lato De Rosa cross al centro e sembra buono Mattera però arriva e anticipa del sorbo poi è Mazzarani a rilanciare lungo e a mettere in fallo laterale messa battuta verso Dideo quindi Cicerelli poi Dideo De Rosa c'è un passaggio filtrante di Dideo sperava di trovare a memoria uno tra del sorbo e De Rosa non ha trovato nessuno anzi i guanti di Piscitelli che ha già battuto all'indirizzo di Melara poi la palla è rimasta lì Padella scambia ripetutamente con Del Pinto ora De Falco ancora Del Pinto Mazzeo Del Pinto apertura sbagliata verso sinistra per Mazzarani e la Cavese adesso sulla tre quarti offensiva a provare a fare del male la difesa la difesa giallorossa Del Pinto commette fallo su De Rosa punizione all'altezza della tre quarti l'arbitro si guarda bene dalla da far rispettare la distanza alla barriera del Benevento sul pallone sembra voler andare De Rosa si resta solo lui in un primo momento c'erano anche Dideo e Siciniano che adesso vanno a disturbare proprio la difesa la barriera del Benevento va De Rosa il tiro di De Rosa e la palla che passa sotto le braccia di Piscitelli una traiettoria che sembrava non poter impensierire il portiere giallorosso e invece viene beffato sul proprio palo è tutto da rifare quindi per il Benevento uno a uno al trentasettesimo il gol di De Rosa su punizione ha rimesso tutto in discussione ma sono evidenti le responsabilità di Piscitelli in questo caso pallone che sembrava innocuo probabilmente rimbalzato anche male ma in quei casi il portiere giallorosso in quel caso il portiere giallorosso doveva essere sicuramente più attento nel tuffo alla sua sinistra Benevento però è già in fase offensiva la Cavese ora prova una ripartenza sulle ali dell'entusiasmo De Rosa non riesce a calcolare bene i tempi lascia rimbalzare il pallone una scelta non opportuna quando il campo è umido o comunque bagnato Porcaro Duetta con Padella controllo di Padella e lancio lungo con il destro all'indirizzo di Marotta controllo di petto di Marotta la gestisce poi la domestica per Mazzarani va via Mazzarani sulla sinistra c'è anche il supporto di Campagnacci servito in questo momento Campagnacci entra in area si accentra il destro di Campagnacci la parata è comoda però di Conti privo di privo di qualsiasi pericolosità questo tentativo di Campagnacci è stato comunque interessante lo spunto di Marotta che ha servito Mazzarani nell'asse sulla sinistra in questa serata ha dato l'impressione di poter funzionare quando innescata ora De Rosa che sulla sinistra offensiva della Cavese invece sta causando più di qualche problema a Melara attenzione cross al centro la palla che arriva e che termina poi sul fondo si lamenta ancora del Sorbo per una trattenuta ma è stato proprio l'attaccante della Cavese a toccare per ultimo si lamenta prima con l'assistente poi con Matera per una trattenuta ai suoi danni l'azione è già ripartita però c'è la chiusura di Gazzaneo su Mazzeo dopo il servizio di Melara un controfallo rimessa invertita in questo caso però perché Mazzeo è stato troppo superficiale secondo il direttore di gara nel rimettere in gioco il pallone adesso Gazzaneo ha provato a servire del Sorbo la palla è tornata al Benevento quindi può ripartire con Del Pinto nel cerchio di centrocampo Matera De Falco vede Melara non lo serve adesso si ci pensa un po' troppo su ora Melara prova a ripartire De Rosa spedisce la palla in fallo laterale sarà proprio Melara ad incaricarsi della rimessa battuta corta per Campagnacci si libera del diretto marcatore Campagnacci poi serve Mazzeo un'altra volta un dialogo verso Campagnacci è provato il passaggio filtrante Mazzeo è stato però intercettato dalla difesa della Cavese ancora un lancio lungo stavolta di Mattera che si scusa Melara attenzione perché Marotta ha rischiato di beffare proprio Conti sembrava anche questo un pallone innocuo se l'è cavata però il portiere della Cavese anche con un po' di fortuna perché Marotta era riuscito a ribattere il suo passaggio che poi è terminato sul fondo dopo il rimpallo stavamo dicendo che Mattera si era scusato proprio con Melara che gli aveva fatto cenno di stare un po' più calmo nella costruzione dell'azione di temporeggiare di non affrettare il rinvio lungo nel caso precedente invece Mattera si era fatto in golosire dal tentativo di un passaggio filtrante lungo cosa che non lo ha premiato adesso De Rosa attenzione perché non c'è fuorigioco sulla rimessa quindi se ne poteva approfittare il numero 7 della Cavese tedesco provato a destreggiarsi tra due avversari c'era anche riuscito poi però la conclusione non è stata precisa e il Benevento è riuscito a tirarsi fuori dai guai anche in questa circostanza quando mancano poco più di quattro minuti al termine della prima frazione uno a uno il vantaggio di Porcaro con un colpo di testa per il Benevento poi il pareggio di De Rosa su punizione ora è proprio Porcaro a gestire palla al limite dell'area giallorossa poi Padella esce palla al piede Padella ancora una volta però viene viene fermato dopo aver tentato il passaggio commette anche fallo la squadra giallorossa proprio all'altezza della mediana e di Deo che è un po' l'humo squadra di questa di questa Cavese giocatore con grande esperienza in Lega Pro anche se Arebbi prova a suonare la carica adesso però la Cavese si distrae un attimo e rilancia l'offensiva con Del Benevento con Del Pinto Mazzeo sulla destra per Melara con questo è il fondo uno contro uno con Gazzane o Melara poi preferisce ammorbidire per Mazzeo scambio con De Falco finta di De Falco sul numero 11 tedesco poi ancora De Falco per Marotta cerca ma non trova De Falco nello stretto poi Di Deo da sfoggio della sua classe Marotta lo stende con un intervento duro ma secondo somma regolare quindi quindi l'azione che prosegue adesso c'è un po' di confusione a centro campo il Benevento riesce a riconquistare palla grazie a Porcaro e Del Pinto va Campagnacci cross al centro arriva Mazzeo il tiro di Mazzeo si era girato bene l'ex attaccante della Nocerina e del Cosenza la difesa della Cavese però gli ha detto di no in particolare il numero 5 Siciniano ora c'è un altro fallo partita che rischia di incattivirsi c'è tanto da fare per somma di Castellammare sono due giocatori della Cavese a terra anzi in questo momento uno soltanto perché si è rialzato il numero due Cicerelli a terra è rimasto il numero otto Ausiello sembra però non essere nulla di grave quello che gli è capitato va a riprendere posto all'interno del 4-3-3 di Longo dove gioca sta giocando da Mezzala sul centro-destra si tocca ancora la caviglia Ausiello vediamo se finalmente può ripartire il gioco 44esimo sta per iniziare il 45esimo minuto quindi l'ultimo giro di lancetta del primo tempo che vede il punteggio sull'1-1 attenzione Marotta cerca lo spunto personale viene sgambettato poi si lamenta con l'arbitro anche in questo caso in realtà il fallo era sembrato netto da parte di Esposito fallo non ravvisato quindi punizione non fischiata al Diablo che ha tentato lo spunto personale si sta ancora chiedendo spiegazioni da solo e poi anche a qualche difensore della Cavese Marotta deve ritrovare subito la concentrazione perché la partita almeno per quanto riguarda il primo tempo vuol già al termine e ogni spunto potrebbe essere quindi decisivo in questa in questo rush finale di frazione eccolo qui proprio Marotta che addomestica il pallone lo serve all'indietro a Mazzarani anzi a Campagnacci ora Mazzarani servito da Mazzeo Marotta nello stretto proprio per Mazzarani poi Mazzeo finisce però il primo tempo Somma decide di mandare tutti negli spogliatoi il Benevento per il momento sta impattando uno a uno a Cava di Tirreni Reti di Porcaro e De Rosa vedremo se nel secondo tempo cambierà qualcosa per il momento linea alla pubblicità di nuovo in collegamento dalla Simonetta Lamberti tra poco l'inizio del secondo tempo c'è da segnalare già un cambio per il Benevento che ha sostituito l'autore del gol del momentaneo 1 a 0 Davide Porcaro con uno dei nuovi arrivi Bonifazi proveniente dalla primavera del Torino all'esordio con la squadra giallorossa c'è un cambio quindi nell'assetto difensivo del Benevento nei tre centrali e Padella che ha assunto per l'appunto la posizione centrale della difesa 3 mentre Bonifazi è andato a piazzarsi sul centro-sinistra con Mattara sul centro-destra siamo in attesa dell'ok dell'arbitro per l'inizio del secondo tempo eccolo qui che è appena arrivato il fischio e Bonifazi a toccare il primo pallone della sua nuova avventura giallorossa palla che arriva dopo il lancio lungo di Mattara all'indirizzo di Campagnacci si libera di un difensore Campagnacci poi il cross al centro sul secondo palla dove non c'è nessuno ed il numero 2 della Cavese Cicerelli era andato in tilt dopo la finta di Campagnacci poi ha messo la palla sul secondo palla invece di concludere troppo altruista forse in questo caso Campagnacci la palla si è persa sul fondo sul fondo adesso Emanuele Conti va alla rimessa probabilmente lunga sì perché la squadra sta andando verso compatta verso la porta di Piscitelli una palla che cade all'altezza del centro campo e viene gestita dal Benevento se ne è un po' confusa la sbroglia proprio la Cavese poi Padella lancio lungo verso Campagnacci stavolta però non viene pescato l'ex regino Dideo allarga all'indirizzo di Tedesco viene fermato proprio da Bonifazi lancio lungo viene invece controllato adesso dal numero 5 Siciniano quindi possiamo già notare la prima occasione della ripresa dopo neanche un minuto di gioco quella per Campagnacci ben servito dalle retrovie partito con i tempi giusti ha fatto un sol boccone di Cicerelli per poi però sbagliare il passaggio sul secondo palo adesso è Tedesco che viene fermato da Mazzarani che interviene di testa controllo del Pinto per Bonifazi non trova nessun compagno libero poi apre il gioco e trova Melara che ha una prateria davanti a sé viene il ripiegamento difensivo il numero 11 della Cavese poi però la palla arriva Marotta c'è Campagnacci ancora uno scarico verso Mazzarani il cross di sinistro di Mazzarani pallone morbido c'è Conti che blocca con le mani in presa alta può ripartire la Cavese con un lancio dove però c'è solo De Falco al centro del campo Mazzeo prova una finta poi viene fermato ancora Mazzeo per Marotta Piatto destro ad aprire il gioco verso Campagnacci poi di Mazzarani poi un inserimento di Campagnacci fermato dalla difesa della Cavese un fallo ai danni di Del Pinto non ravvisato dall'arbitro che sta lasciando correre tantissimo Campagnacci verso De Falco palla per Melara ancora l'indietro per Mattera l'evento all'interritmo poi De Falco pesca Mazzeo ancora un retropassaggio di Mazzeo all'indirizzo di De Falco la palla resta in orizzontale viaggia tra Marotta e Mazzeo adesso ancora Marotta attenzione perché c'è all'indietro Del Pinto prova ad aprire il gioco nei confronti di Campagnacci viene fermato da un intervento difensivo di Sirignano di Sicignano c'è Bonifazi che controlla che la palla arrivi a Piscitelli e Padella in posizione di centrale di difesa adagia a Del Pinto Mattera Del Pinto Marotta di prima verso Del Pinto non riesce a trovare Mazzeo sull'out di destra quindi De Falco c'è l'inserimento di Tedesco può ripartire quindi la Cavese De Rosa Mazzarani ottimo in anticipo e quindi Campagnacci uno contro uno come al solito stavolta era stato esposito ad essere esaltato vediamo se anche in questo caso l'arbitro non estrarrà il cartellino sembra essere proprio questa la decisione di Somma cartellini ben riposti in tasca in questo caso poteva esserci la sanzione per il numero 6 della Cavese è stato netto l'intervento ai danni di Campagnacci adesso punizione per il Benevento quando siamo al quinto minuto di gioco sul pallone ci sono De Falco e Mazzeo oltre ovviamente a Campagnacci che però non sembra voler partecipare alla battuta infatti si allontana ora c'è solo De Falco si è allontanato anche Mazzeo vediamo se proverà la conclusione va De Falco con il destro pallone ribattuto dalla barriera poi Campagnacci cross al centro di Campagnacci Conti senza problemi in uscita bassa fa solo la sfera e fa ripartire l'azione Gazzanio deve liberarsi di Mazzeo impellenza a quanto complessa attenzione perché c'è Conti contrastato da Del Pinto l'azione si sposta però già dall'altro lato con il numero 7 della Cavese tedesco fermato da Mazzarani e poi da Bonifazi Mattera avanza palla al piede poi cambia gioco all'indirizzo di Campagnacci uno dei più attivi in questa sera evidente c'è ancora qualche calciatore del Benevento in ritardo di condizione parliamo soprattutto degli esterni Melara e Mazzarani attenzione perché adesso è proprio Melara a provare lo scatto senza trovare fortuna sulla destra ma ci può stare tranquillamente in un momento della stagione che è quello dei ritiri e della preparazione atletica ci sarà anche il primo cambio per la Cavese entrerà il numero 18 Danna vediamo al posto di chi cambio che viene comunque probabilmente posticipato di qualche secondo visto che Conti è già andato al rinvio del Sorbo verso D'Ancora la palla per Mattera però che gestisce poi De Falco viene sgambettato c'è Fallo ai suoi danni di Dideo vediamo se si opererà se si provvederà al cambio l'attenzione dell'arbitro però non viene richiamata anzi si ne accorge proprio in questo momento che la Cavese sta per operare un cambio ed esce il numero 7 dei padroni di casa tedesco sostituito da Danna quando siamo all'ottavo minuto del secondo tempo la punizione intanto è stata abbattuta da De Falco che ha appoggiato corto a Mattera per poi cercare Marotta poi Mazzeo verticale per Campagnacci De Falco poi Del Pinto per Campagnacci Mazzeo Del Pinto De Falco Campagnacci controllo con l'esterno poi cerca di partire per via centrali poi allargare il gioco ma Ausiello è bravo ad intervenire poi Padella con la solita erruenza riesce a far sua la sfera a far dare una boccata d'ossigeno al Benevento che può ripartire Campagnacci serve sullo scatto anzi Mazzarani serve sullo scatto Campagnacci ancora Mazzarani cross al centro colpo di testa tentato da Marotta la palla però che sfila dopo una deviazione il tiro provato da De Falco palla che termina sul fondo guarda una zolla del terreno De Falco probabilmente disturbato da un rimbalzo strano del pallone ci ha provato il centrocampista del Benevento invece chi ha provato ad uscire palla al piede dalla difesa è stato Bonifazi che però ha commesso fallo su Del Sorbo che continua a protestare ci prova Cicirelli Padella all'indietro per Piscitelli il pallone che arriva dalle parti di D'Ancora fermato D'Ancora l'arbitro lascia correre per il vantaggio quindi Di Deo ha già fatto ripartire l'azione Cicirelli cross al centro di Cicirelli rimpallato da Mazzarani che adesso torna in possesso della sfera e con il sinistro lancia Marotta lavoro di protezione della sfera di Marotta che poi lascia andare via Campagnacci uno contro uno di Campagnacci con il numero tre Gazzani attenzione la rete c'è la rete del Benevento ha segnato Mazzeo liberato da Campagnacci molto bene 2 a 1 per il Benevento al decimo della ripresa segna anche Fabio Mazzeo ma è in generale una bella azione del Benevento una bella ripartenza che nasce da Mazzarani poi protezione della palla perfetta di Marotta che lascia correre per Campagnacci un gioco in velocità quello dell'ex Regino che ha aspettato il tempo giusto per l'inserimento di Mazzeo e per l'attaccante giallorosso poi è stato un gioco da ragazzi battere conti per il 2 a 1 quando siamo al decimo della ripresa quindi anche Mazzeo nel tabellino dei marcatori risultato che si sblocca nuovamente la capese si è fatta cogliere in preparata questa azione di ripartenza del Benevento che abbiamo visto molto attivo attenzione a Marotta che va in pressione su Conti come nel primo tempo quando aveva sfiorato il gol sul rimpallo Campagnacci ancora un servizio per Mazzeo si muovono in velocità i due adesso Campagnacci e la rete di Campagnacci il 3 a 1 del Benevento ricambia il favore Mazzeo a Campagnacci che fa partire un gran destro anche in questo caso però come era accaduto in occasione dell'1 a 1 bisogna dirlo responsabilità probabilmente anche del portiere in questo caso di Conti prima era stato Piscitelli invece a sbagliare qualcosina il fatto sta che siamo al dodicesimo e Campagnacci firma il 3 a 1 1-2 micidiale della coppia Campagnacci e Mazzeo che si è prodotta in due azioni davvero degne di nota e anche molto dispendiose dal punto di vista fisico in due minuti attenzione Mazzarani rischia tantissimo in questo retropassaggio a Piscitelli per poco Del Sorbo non riusciva ad inserirsi sulla traiettoria De Falco per Del Pinto duettano i due il Benevento praticamente messo in ghiaccio la partita in questi due minuti dall'1 a 1 si è passati al 3 a 1 attenzione perché Campagnacci parte benissimo sulla linea di difensori poi troppo superficiale nel controllo riesce in qualche modo a rimediare alleggerisce per Marotta anche lui controllo sbagliato un cambio di gioco verso Melara Melara va via sulla destra cross al centro c'è Campagnacci destro al volo stavolta gli riesce un tantino peggio rispetto alle azioni precedenti il numero c'è un fallo di Melara all'indirizzo del numero 11 d'Ancora e la cavese può ripartire con il nuovo entrato d'Anna che adesso scambia ancora palla per De Rosa De Rosa posizione di tiro il tiro di De Rosa e con i pugni Piscitelli era da quelle parti del sorbo che comunque sarebbe stato un offside fatto sta che la respinta del portiere giallorosso è stata alquanto rischiosa si è fidato ancora una volta delle condizioni della sfera più che altro e del terreno di gioco adesso Mazzeo rientra sul destro Mazzeo e c'è una una bella chiusura di Siciniano che gli impedisce di essere pericoloso ora Matera deve guardarsi bene dal talento di De Rosa Mazzeo anticipa Gazzaneo De Falco per Mazzarani poi per Mazzeo che va spesso a prendere palla nel cerchio di centrocampo e partire poi quindi da dietro per provare a dare fastidio alla difesa della Cavise l'idea di prima intenzione verso Del Sorbo tentativi più che altro molto improvvisati questi della Cavise in questa seconda frazione dove il Benevento sta tenendo bene il campo soprattutto dopo l'1-2 firmato Mazzeo Campagnacci sta amministrando bene ora il numero 8 a Osiello fa ripartire l'azione da dietro palla che arriva in qualche modo a Dancora che sbaglia il servizio proprio all'indirizzo di Osiello la palla adesso è nelle mani di Loreno Cassia che la serve a Mazzarani per la ripresa del gioco Bonifazi Padella Mattera all'indirizzo di Del Pinto poi De Falco ancora Bonifazi Campagnacci Marotta chiama palla la riserve a Campagnacci cambia dall'altro lato per Melara Benevento si muove bene vediamo Melara nell'uno contro uno con Gazzaneo Melara va via slalom di Melara attenzione cross al centro non ci arriva Marotta grande azione personale di Melara non è finita però perché Campagnacci prova di nuovo il cross probabilmente c'è stata una deviazione anzi no rimessa dal fondo e queste sono le azioni che si vorrebbero sempre vedere da Fabrizio Melara ovviamente la condizione ancora non lo assiste c'è un altro cambio per la Cavese esce il numero 11 d'Ancora ed entra il numero 14 Domenico Aliperta cambia relativamente poco nello scacchiere di Longo Aliperta va a posizionarsi al posto occupato da D'Ancora ovvero in posizione di mezzalla sinistra nel centro campo a tre vediamo se poi in corso di svolgimento cambierà qualcosa ora la palla è per D'Ausiello per Attedisco fermato c'è una punizione accordata da Somma sul pallone il solito D'Ideo ma siamo ben distanti dalla porta di Piscitelli quindi l'azione viene orchestrata da D'Ideo Marotta davvero incontrollabile prova a mettere pressione anche Mazzeo poi sulla scia del compagno stava per per indurre all'errore proprio la Cavese ora il numero 18 D'Anna per D'Ideo eccolo qui il nuovo entrato Aliperta che gioca il suo primo pallone De Rosa proprio per Aliperta pretende troppo però il numero 10 della Cavese dal nuovo entrato Piscitelli che rinuncia ancora alla rimessa con i piedi affidandola a Padella l'arbitro fa accenno che bisogna cambiare pallone Padella quindi rimette in gioco il pallone per Mattera poi De Falco posizione arretrata vede che non ci sono compagni liberi oltre la metà campo e l'appoggia Bonifazi poi Campagnacci lo scatto di Marotta Marotta va via al diretto marcatore che è il numero 6 esposito poi Duetta con Mazzeo del Pinto Mazzeo stavolta però è troppo pretenzioso il suo servizio per Marotta e la palla è di nuovo per la Cavese che la perde malamente succede qualcosa dalle parti della panchina Bonifazi si scusa con Danna c'era stato un contrasto troppo veemente probabilmente tra i due la rimessa in gioco proprio di Bonifazi per De Falco nel sorbo può fare quantità mettere un po' di fiato sul collo a De Falco che però grazie alla sua grande esperienza gestisce palla abbassa il ritmo come è giusto che sia in questa fase di gara siamo al ventesimo minuto il punteggio lo ricordiamo è di 3 a 1 per il Benevento grazie ai gol di Porcaro Mazzeo e Campagnacci per la Cavese invece era andato a segno De Rosa per il momentaneo 1 a 1 nel primo tempo ora Bonifazi Mazzarani De Falco Mazzarani Marotta prova il numero nello stretto devi vedersela però condanna poi c'è un fallo di mano proprio del Diablo che si lamenta effettivamente però il tocco di mano c'era stato soliti giochetti di esperienza di Marotta per ritardare il gioco per rifiatare quindi per far ritardare il gioco della Cavese e rifiatare in questa fase della partita Benevento ricordiamo ha messo il risultato in ghiaccio al dodicesimo minuto ma bisogna stare sempre attenti ora Bonifazi di fisico si libera di Cicirelli fa ripartire l'azione Esposito per Conti Marotta però è sempre in a 4 non si può stare tranquilli là dietro per quanto riguarda la Cavese Dideo all'indietro per Esposito c'è l'intervento di De Falco a centrocampo a riconquistare palla e a far ripartire l'azione Melara si propone attenzione però perché c'è un grande scatto di Mazzeo sul filo del fuorigioco l'intenzione era buona partito forse con un secondo di ritardo Mazzeo rispetto a quanto preventivato ma c'è stato davvero uno spunto interessante dell'attaccante giallorosso che poteva andare vicinissimo alla doppietta personale ora De Falco Del Pinto Marotta scambia con Melara il passaggio di ritorno però è troppo troppo forte e si perde tra le mani di Conti quindi esposito per Cicirelli Di Deo chiede molto a Danna sbaglia la misura del passaggio c'è anche un altro cambio per la Cavise Longo prova a dare una scossa esce Del Sorbo numero 9 Del Sorbo che si è dato tanto da fare ed entra il numero 16 Varriale quando siamo al 22esimo in corso Bonifazi trova Danna che si frappone con la testa al tentativo del Benevento ora Danna ancora Campagnacci di esterno trova al centro Aliperta che quindi fa ripartire la Cavise l'apertura di Aliperta però è troppo fuori misura ed eccessivamente fuori misura dato che il Benevento conquista una rimessa laterale in zona difensiva ritmi bassi da una decina di minuti poche occasioni sul 3 a 1 per i giallorossi ora c'è Campagnacci che subisce l'ennesimo fallo questa volta a commetterlo è Danna Del Pinto batte la punizione da posizione sicuramente differente rispetto al luogo del fallo Mazzarani e lui ad incaricarsi della della punizione della battuta della punizione poi De Falco per Mazzarani del Pinto passaggio per Mazzarani ancora numero 11 del Benevento serve ancora Del Pinto poi il nuovo entrato Varriale che ha preso posizione al centro dell'attacco della Cavese subisce fallo l'arbitro non ravvisa ancora qualche protesta da parte del pubblico e dei giocatori in campo ma somma ha deciso di non fischiare siamo già dall'altra parte perché Mazzarani va via come un fulmine poi serve Melara la palla ritorna a Mazzarani questa volta c'è il fallo la trattenuta di Melara sul numero 3 della Cavese Gazzaneo che era stato bravo a capire le intenzioni di Mazzarani e ad anticipare proprio l'esterno giallorosso passaggio di ritorno per Mazzarani era arrivato ma dopo aver commesso fallo Mazzarani era quasi nelle condizioni di tirare ma era arrivato poi il fischio di Somma Danna per Ausiello Di Deo ancora la Cavese ora De Rosa cross al centro di De Rosa palla che arriva e termina sul fondo c'era però fuori gioco a provarci di testa era stato il nuovo entrato Variale palla terminata di pochissimo alla sinistra di Piscitelli palla aveva sfiorato il palo in realtà ma tutto fermo perché il primo assistente Bartolomeo Esposito di Caserta aveva alzato la bandierina segnalando l'offside della punta numero 16 Melara all'indietro per Mattera all'indirizzo di Marotta questo passaggio impreciso però il Diablo ha provato a raggiungerlo di testa non c'è riuscito siamo giunti al 25esimo minuto di gioco 3 a 1 per il Benevento Simonetta Lamberti gol di Porcaro Mazzeo e Campagnacci lo ricordiamo per la Cavese invece è andato a segno De Rosa Di Deo all'indietro verso Esposito poi un po' di confusione Di Deo anche che sembra molto stanco è rimasto anche a terra all'ex centro campista del Benevento ci sono infatti crampi per lui segnalati allo staff proprio attenzione attenzione perché Bonifazi si perde Danna che a tu per tu con Piscitelli non riesce a trovare il tempo giusto resta a terra Padella resta a terra Padella speriamo nulla di grave perché in questa fase della stagione questa è la cosa più importante in palio stasera non ci sono logicamente i tre punti si è allungato Padella nel tentativo di riprendere Danna che era riuscito ad incuniarsi nella difesa giallorossa è intervenuto lo staff sanitario del Benevento tanto ne approfittano le due squadre per dissetarsi per quanto possa essere fresca la serata dopo la pioggia del tardo pomeriggio comunque il caldo si sente le temperature non sono poi così basse Padella nel frattempo esce dal campo esce dal perimetro di gioco ma sembra correre tranquillamente sembra poter rientrare vediamo cosa deciderà anche Cassia se rischiarlo o meno ma probabilmente è un acciacco da poco per Padella che fa già segno all'arbitro chiede di rientrare permesso accordato la cavise che prova a ripartire da dietro ma Maceo disturba l'azione metelliana e mette la palla in fallo laterale di Deo di prima intenzione verso Varriale ora la palla arriva De Rosa controllo di De Rosa due su di lui va via De Rosa attenzione De Rosa perché riesce probabilmente a crossare il cross arriva sul secondo pallo non c'è nessuno c'è solo Mazzarani che può allontanare in corner ma applausi per De Rosa che era andato bene via due avversari sulla corsia sinistra offensiva per la cavise un corner potrebbe essere battuto anche corto perché De Rosa si sta avvicinando al punto di battuta anzi è proprio lui ad incaricarsi del calcio d'angolo traiettore sul primo palo Varriale ha provato ad inserirsi a quindi a spizzarla per prolungare la sfera all'interno dell'area ora Campagnacci vede l'inserimento di Maceo come è avvenuto nella ripartenza che ha portato al gol del 2-1 giallorosso attenzione perché Marotta non è in fuorigioco tutto solo Marotta il tiro di Marotta e si salva la cavese non era in fuorigioco Marotta era salita male la difesa della cavese infatti incredulo il Diablo probabilmente non ha tirato con la giusta convinzione si è girato con il destro e ha trovato invece la ferma opposizione della difesa e sulla linea con Siciniano è riuscita ad evitare quei peggiori per la porta di Conti ad evitare quindi il quarto gol e il poker del Benevento siamo quasi a mezz'ora Bonifazi Padella Mattera Melara verso Marotta da una mano ai centrocampisti poi smista a Bonifazi Mazzarani Mazzeo Campagnacci per Mazzarani c'è l'ennesimo cambio per la cavese il quarto esce proprio Guido Di Deo uno dei più stanchi uno dei calciatori che ha speso di più in questo match quindi alla mezz'ora esce Guido Di Deo ed entra il numero 17 Giuseppe Petti classe 96 probabilmente anche Cassia starà pensando a qualche a qualche cambio anche se come ribadito ad inizio Telecronaca l'intenzione dello staff giallorosso potrebbe essere proprio quella di mantenere il più possibile i titolari in campo per 90 minuti ieri era stato solo uno il cambio operato da Cassia e oggi siamo più o meno in quella direzione ricordiamo l'ingresso di il solo ingresso di Bonifazi all'interno dello scacchiere giallorosso a fine primo tempo in una sorta di staffetta con Porcaro autore del gol del momentaneo 1 a 0 azione della cavese riparte da Conte attenzione perché Marotta stava per inserirsi nella trama della cavese cercando l'anticipo su Aliperta adesso Petti lascia proprio la palla da Aliperta Ausiello De Rosa ancora De Rosa procede la sua azione in orizzontale taglia praticamente il campo in due numero 10 della cavese poi l'esterno a servire la punta varriale ma i varchi sono chiusi perché il Benevento può ripartire la situazione di 4 contro 3 in questo momento si fa rivedere però anche Melara sulla corsia di destra viene servito fa movimento Marotta servito anche Marotta attenzione la finta di Marotta Melara cross al centro di Melara ci sono tre giallorossi da quelle parti ma Zio poi decide di alleggerire per Campagnacci alle sue spalle c'erano due compagni la cavese già dall'altro lato però De Rosa si libera di un avversario De Falco lo stende l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio quindi danna il destro termina sul fondo Somm si avvicina alla panchina dopo aver terminato gli esercizi di riscaldamento vediamo se Cassia lo inserirà dovrebbe esserci anche il quinto cambio per la cavese quando ci arriviamo alla termine di questa amichevole mancano poco più di dieci minuti se non vado se non vado errato il numero 15 Bungermino si è alzato dalla panchina e sta ricevendo le ultime indicazioni da lungo intanto proprio la cavese con Ausiello che non riesce ad aggiungere il servizio di Aliperta e perde l'opportunità quindi di rendersi offensivo ci prova invece adesso Melara dall'altro lato corsia di destra servito Mazzeo uno contro uno con Gazzaneo pallone di ritorno per Melara che poi la serve a Del Pinto De Falco apertura verso Mazzarani Bonifazi con il numero 18 chiama il pallone Melara Zom intanto torna a riscaldarsi Melara verso Marotta si libera bene di un avversario Marotta poi però si porta il pallone oltre la linea di fondo e perde l'occasione entra il numero 15 quindi ufficialmente per la cavese ed esce De Rosa probabilmente sarà anche salutato dagli applausi del Simonetta Lamberti che arrivano proprio in questo momento uno dei migliori nella sua squadra De Rosa uno degli elementi più talentuosi entra dunque e buongermino intanto entra anche Thomas Somm al posto di Mazzarani che ha speso tantissimo sulla corsia di sinistra che abbiamo visto non è ancora in condizione al pari di diversi suoi compagni Somm che ha giocato agli interi 90 minuti nell'amichevole di Campobasso quindi due cambi per il Benevento in questa serata della Simonetta Lamberti Campobasso la cavese invece ne ha ne ha operato addirittura 5 la palla adesso è gestita da Osiello quindi Melara di fisico va via Melara alleggerisce per Mazzeo poi De Falco il tacco questa volta è di Barriale a liberare proprio Bongermino nuovo entrato attenzione Barriale prova il tiro al volo Bonifazi di testa deve gestire questa palla del Benevento che la cavese sta cercando in tutti i modi di alzare il baricentro per provare a trovare almeno il gol del 3 a 2 che dimezzerebbe le distanze ma il Benevento gestisce bene il dato dei paganti in questa serata del Simonetta Lamberti è di 990 spettatori quindi circa 1000 i presenti nella serata che inaugura di fatto la stagione della cavese davanti al proprio pubblico il Benevento però sta rovinando in un certo senso la festa ai Metelliani con un 3 a 1 ci prova adesso proprio la squadra di Longo il tiro del numero 18 Danna si perde però sul fondo ci ha provato con il destro uno dei nuovi entrati del secondo tempo ennesimo rinvio dal fondo Piscitelli lascia ancora una volta la palla a Padella Mattera servizio corto per Del Pinto poi De Falco ancora Del Pinto per Marotta azione personale di Marotta insistita lascia lì il pallone a Mazzeo ancora per Marotta vede ancora l'inserimento di Mazzeo che dovrebbe metterla in mezzo ci prova non ci arriva Campagnacci e poi c'è un retropassaggio di un difensore della Cavese Marotta si lamenta l'arbitro lascia correre indicando che l'azione era del tutto involontaria era stato il numero 5 siciniano a lasciare la palla a Conti ora a provare il numero su Somm è invece Danna che conquista un calcio d'angolo palla è andata oltre la linea di fondo dopo il contrasto vinto da Somm e c'è l'ennesimo calcio d'angolo per la Cavese se ne incarica Aliperta che chiamo uno schema va Aliperta con il sinistro ottima battuta per poco non trova il gol direttamente dalla bandierina grande battuta di Aliperta palla che gira e Piscitelli stava per rimanere di sasso davanti questa inaspettata inattesa battuta di Aliperta che ha provato a cercare una deviazione a centro area ma anche senza deviazione la sua battuta resta altamente insidiosa anzi è una delle occasioni migliori della Cavese in questo secondo tempo quando la squadra di Longo ha creato obiettivamente pochissimo Aliperta proprio lui adesso la passa a Petti c'è Mazzeo si propone verso Marotta Mazzeo in scivolata Caparbio Maddanna i ruba palla e la porta via poi Cicirelli Conti per Danna controllo di petto sguardo a qualche compagno servizio per Aliperta poi Cicirelli non riesce a raggiungere la sfera e occhio perché questo è un contropiede molto invitante per Campagnacci Campagnacci punta al diretto avversario cross al centro Mazzeo con i tempi un tantino sbagliati un millesimo di secondo prima e sarebbe stato probabilmente gol o comunque Mazzeo sarebbe riuscito a concludere senza problemi da due passi cosa che non è avvenuta perché l'attaccante giallorosso si è un po' incartato ha perso il tempo della battuta ora rimessa laterale squadre molto lunghe dalle parti dell'attacco della Cavese Bonifazi esce palla al piede dalla sua area di rigore allarga per Somma da uno sguardo ai compagni Somma poi si ferma la serve a Del Pinto servizio all'indietro per Padella 5 minuti al termine 3 a 1 per il Benevento Mattera Mattera non vede nessun compagno che fa movimento c'è molta stanchezza in questo momento lo si percepisce proprio dal poco dinamismo di entrambe le squadre Marotta sulla otto sinistro uno dei pochi che corre davvero come se fosse il primo minuto ancora Marotta fermato da Cicirelli resta sul suo diretto avversario Marotta lo costringe all'errore la palla termina oltre la linea laterale Somma batte lui la rimessa per De Falco ingolosito da questa apertura ci pensa su e non serve poi Melara ma la dà a Mattera quindi Campagnacci palla che resta lì passaggi corti ritmi blandi in questa fase ultima fase di partita Campagnacci per Ramazzeo poi Dan ha riconquistato palla e l'ha servita al numero 17 Petti che adesso subisce fallo proprio ad opera di Bonifazi la cavese resta in zona offensiva a Liperta serve Petti uno contro uno con De Falco ancora Liperta Petti si fa vedere a Liperta ma un'azione troppo prevedibile Matera fa buona guardia lascia che Piscitelli conquisti il possesso della sfera e la blocchi Campagnacci per Marotta in azione personale ancora Marotta subisce fallo in mezzo a tre è incomiabile il comportamento di Marotta dal punto di vista dell'impegno e della corsa non è un particolare di poco conto siamo al 43esimo della ripresa il Diablo corre come se fosse appena entrato in campo andrà praticamente 88 minuti nelle gambe De Falco all'indietro per Padella De Falco vede Campagnacci prova a darpionare questa sfera si scusa quasi con De Falco i ciri sembravano giusti in realtà probabilmente nei primi minuti Campagnacci sarebbe riuscito in qualche modo a controllare il pallone ma visto che le energie adesso sono quelle che sono non è riuscito a raggiungere la sfera e quindi a controllarla sfera che adesso termina in fallo laterale SOM per Bonifazi la partita si avvia alla conclusione un match quello tra Cavese e Benevento che al Simonetta Lamberti mancava dal 17 aprile 2011 quando fu proprio il Benevento ad imporsi era una gara di campionato ovviamente partita ufficiale seguiamo intanto l'azione della Cavese sarà un calcio d'angolo no una rimessa dal fondo perché l'arbitro ha visto che l'ultimo tocco era stato proprio il giocatore della Cavese se non vado terrato Petti sul contrasto con Matera anzi era buongermino ora Bonifazi per Campagnacci SOM tunnel di SOM ai danni di Cicirelli attenzione perché Marotta si fa vedere scatta sul filo del fuorigioco Marotta non c'è nessuno però al centro deve inventarsi qualcosa il diavolo il tiro sul primo palo Conti blocca in due tempi poi ha qualcosa da dire a Marotta che risponde per le rime sicuramente non manca la personalità a Conti che è un 96 dicevamo dell'ultimo precedente in quel caso fu decisivo un gol di Munarri in pieno recupero per il Benevento Sanchi il 3 a 2 per la squadra giallorossa andarono in gol in quella giornata anche Clemente e Pintori mentre la doppietta per i due gol della Cavese furono firmati da una doppietta di Schetter Mazzeo per Campagnacci deve rincorrere questa sfera con le ultime energie rimaste la tiene all'altezza della bandierina duello con Cicirelli Campagnacci poi l'appoggio è per De Falco quindi Mazzeo apre per Melara uno contro uno con Gazzaneo Melara il tiro di Melara sul fondo finisce qui perché somma di Castellammare di Stabbia dice che può bastare 45esimo in punto il Benevento si impone sulla Cavese al Simonetta Lamberti con il punteggio di 3 a 1 riepiloghiamo i marcatori al 25esimo del primo tempo Porcaro per il Benevento poi al 36esimo della stessa prima frazione De Rosa a firmare l'1-1 per la Cavese poi la chiusura dei conti con Mazzeo al decimo del secondo tempo e Campagnacci due minuti dopo per il 2 a 1 ed il 3 a 1 Bene dalla Simonetta Lamberti è tutto un cordiale saluto e un ringraziamento da Francesco Carluccio e buon proseguimento con la programmazione di 8 Channel 696 ok